allora ti ho scusato la tosse allora ci sta mettendo 7 anni qui mi segna il 41% e considerato che mi segna come è finita solo la gara che ho vinto secondo me siamo a più di metà secondo me siamo a più di metà no vai affanculo non mi ricordo cosa avevo fatto per ultimo ma facciamo questa risposta rapida allora direi dipende da musse e lago di solito mi ci trovo bene eh chiaro come l'ho soffiato a puttana l'ho spostato tutto ehm niente vai su sono 20 km di percorso ce la posso fare in poco tempo no 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 che è culo ottimo questo è il culo questo è il tipo di culo che voglio ok benissimo così è giusto così ok ok puttana ah questa è nuova ottimo ok ok non vedevo il muro non vedevo il muro non lo vedevo e non lo vedevo va bene lo stesso non lo vedevo non lo vedevo non lo vedevo mi prendo un'altra ok no ottimo così lei l'aveva fatto a un filo più liquido no le macchine 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 ma il traffico cazzo ma è scomparso il furgone non l'ho visto solo io il furgone è scomparso che cazzo ok tutto nella norma tutto nella norma si si un'altra scorciatoria che culo anche qua no quella non la prendo non voglio incasinarmi troppo dai ho due minuti per fare 8 km dovevi cavarmela sta cazzo di macchine è meravigliosa comunque ho frenato perchè avevo paura ok 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 ottimo 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 qui ci siamo? posso? ottimo pulizia che prendere scorciatoio in questa maniera è meravigliosa eh? non so non so quanto lo faccia non credo minimamente però bella bella sensazione ti fa proprio sentire al sicuro sapere sapere che i poliziotti guidano in questa maniera non pensavo di non prenderlo ma volevo utilizzare il NOS per schivarlo in tempo record ma vabbè l'ho preso senza problemi l'onorificenza eh però va benissimo perfetta eh gli scorciatori in più ho scelto una buona macchina tutto è filato per il resto di vostro ora qui ancora abbiamo una gara andiamo c'è abbiamo una galiardo? ah no l'esortico io ci spero sempre riprendiamo una ma si rago l'avevo già guidata si con i piloti non mi ricordavo se l'avessi già guidata con i piloti ahio ok presente al primo posto l'altro guardo ma lo sto leggendo passione d'italia ma qualsiasi cosa voglia dire la si fit dead by apple va bene ma una bella canzone dei cannibal corpse così per fidel ma il primo in quanto cazzo sono già avanti ma vi dovete dei coglioni ecco tesi ok ok sono l'ultimissimo non più ok 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 che casino ottimo ottimo arrivederci arrivederci ok andata alla conquista del primo posto troppo troppo decisamente che l'ho visto malissimo proprio non mi è venuto addosso lui devi piantarla non ho visto la macchia non l'ho proprio vista io davvero davvero non l'ho vista non mi sto avendo per il culo l'ho vista all'ultimo ad ormai era troppo tardi l'ho vista ma perché cazzo l'ha preso in questa maniera? perché è solo ok questa non è colpa mia non può esserlo cosa è successo? non ho fatto niente che non avessi già fatto ok perché perché mi da tagliare in più se io scrivo gli incidenti? come funziona? ok ma perché non giro? come voglio io ragazzo? vabbè io non posso mancare anche questa di anche questo come cazzo si chiamano? bollini li chiamiamo bollini non posso mancare anche questi almeno uguale volevo prendere la scorciatoria ma non gli è piaciuto no eh non posso davvero artista funeral party è per il film il nome? o semplicemente voleva prendersi funeral party ho cinque chilometri per almeno prendermi due posti con tutti che sono a casino sono tre secondi davanti al al sesto e ora sono quarto magari se hai fatto un bel incidente da buttolire bel incidentino come li recupero io? 9 secondi così e ora sono qui ottimo minchia grandioso a 9 secondi ha 1 con uno scorciatoio oh mi basta il terzo posto eh ti prego secondo di 2 bellissimo ottimo 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 l'ho già utilizzata la battuta ma fotografia con Tumus perfetto via ho ricevuto una BMW M6 Convertible ok ottimo allora l'altra della scpd abbiamo qui un hot pursuit qua hot pursuit e interceptor qui interceptor andiamo a fare l'hot pursuit dai posso scegliermi la macchina è disponibile non disponibile ce l'ho operato aspetti eh prendiamo questa dai prendiamo questa mettici nella garbola prendiamo la taglia maggiore 7 catture ah 5 semplicemente per una minzione ok vabbè per fortuna ho tutto l'equipaggiamento salta dai ottimo andiamo ok perfetto ora 2 1 ok e gli abbiamo fatto del danno poi ok merda mi ha fatto buttare un IM ok ma che fai ti sposti dal muretto? ok 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 e una è presa poi minchia vabbè mi ha ridato il controllo della macchina in modo aia non l'ho vista eeeh lo so no vabbè ma prima mi ha ridato la macchina il controllo della macchina in maniera disgustosa oserei dire perchè ok 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 ma io l'avevo girato molto prima due cattura poi minchia allora posso? grazie quante cazzo ne hanno? perchè io da pilota non ne ho così tante di solito ottimo andata posso riavere il controllo della macchina contesemente grazie ok 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 no niente ok eeeh no perda pensavo di prenderlo pensavo di prenderlo blocco statale ok 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 l'ho accarezzato dai su eeeh non potevo fare nulla non potevo fare nulla ok eeeh l'ho messo malissimo perchè ho pensato che fosse molto più vicino a me quindi ok terza cattura eeeh 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 prenderti ok ok che cazzo succede va bene io ti piaccio una sfisciacchiodata per una sedia giù di me no perché non so aia 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 e ho capito vabbè buono se gli schianti in continuazione io posso farci nulla dove cazzo sono quegli altri dai mi manca una cattura per evitare di riformerla completamente da zero ok utilizziamo anche un elicottero perché cazzo è finito così tanto fuori strada bella poi ma aspetta sono io il primo ma mi è venuto addosso lui ma è stato lui a venirmi addosso cattura elicottero ah ok eeeh hai troppa vita ancora ciccio eeeh va bene piloti fuggiti uno va bene uno lo accetto sei su sette va benissimo premio distinzione ok arrivederci che cosa ho vinto equipaggiamento potenziato IEM livello 3 progettare il futuro della polizia ad alta velocità il generatore produce un impatto elettrico di cento volte superiore a quello di un fulmine e costituisce il dispositivo di arresto elettromagnetico definitivo sviluppati con l'esercito gli algoritmi di accanciamento rendono l'acquisizione del bersaglio più veloce del 75% grazie immagino un nuovo veicolo una corvette ok ora eeeh ah è sbloccata roba nuova ok ah qui è sbloccata un'altra gara a tempo ok no facciamo uno spulso hit invece un'altra outpulso hit però posso utilizzare solo questa eeeh 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 è il momento perchè è il momento è il momento no ma siamo solo in quattro ok eeeh va bene va bene no a me basta ottenere una una medaglia eh me ne frega me ne frega ben poco del colore della medaglia aia ma minchia eeeh 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 eliminazione ah ok beh ora sono il terzo che minchia però sto per essere eliminato anch'io ma che cazzo basta che cazzo eh non hanno mai sparato così tanta roba tutta insieme eeeh dio mio dio mio un altro elicottero minchia non è possibile cioè non hanno mai lanciato così tanta roba che cazzo che cazzo vabbè io ho finito per provocare se i danni non la polizia che lancia sti scecchio dati in giro in una strada dove camminano anche i cittadini io arrivederci no sono anche arrivato al secondo si ahia ho troppo poca vita io per poter arrivare vivo alla fine della gara questa questa mi sa che la dovrei fare perchè ok bella ciao è stata una idea geniale è stata una res bene non è possibile riconoscere le regole non è possibile lo hai visto lo hai visto non è possibile che è il paese devo farlo per troppo poco tempo quindi su tu vai avanti no vabbè però io ho schivato va bene a me mancao niente per morire a me mancao niente se mi schiantassi in un muro la mia gara finirebbe qui esatto mi hanno accarezzato il culo questa è una maestria posso rifarla? posso rifarla? posso? no non posso se io vengo ah no posso ok stavo già appena insultando malissimo dai su cazzo il problema è l'inizio perché non mi hanno sparato così tanta roba tutta insieme è scritto pur su non glory hall cioè dammelo un attimo di respiro qui sono un coglione io ma proprio forte ma se mi sono schiantato da solo ok va bene ottimo un poliziotto è andato andiamo andiamo ok ho già più vita in proporzione quanto ne avessi prima perché prima è una cosa impossibile cioè ahia non l'ho visto il muro non l'ho visto non l'ho visto il muro non l'ho visto ok ok bella ho evitato la striscia chiarata dell'elicottero la striscia la striscia chiarata del poliziotto e anche un incidente ok 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 vabbè tipo arriva il poliziotto si è schiantato sul proprio blocco stradale meraviglioso ok aia ok ok se cosa voglio è schiantato disturbata poi non lo so aia ok bene grazie a questa spintarella ne però io lo sto fuggiando ma è battaglia per il terzo posto meglio non dovremmo la rifare di nuovo ok minchia ok no eh vabbè l'ho capito me l'avevi detto anche prima ti ho capito lo sto ogni secondo da 20 minuti questo se ne esce con potrebbe far parte di una gara clandestina coglione te lo stanno dicendo da un pezzo dov'è cazzo da voi per un'altra stazione cioè ahia no penso io prendo l'ho ok ok posso tesemente grazie ok ho realizzato un sacco nella scorciatoria ho tantissimo ma perché non vedo un cazzo quindi sto improvvisando completamente ma proprio completamente polizia elicottero ok ok non ce l'hanno con me perfetto ok ok sono in una galleria dai poi bastava mettermi la striscia chiata davanti alla galleria non dico che sarebbero finiti i giochi ma quasi però questa era decisamente un'idea migliore credo tra l'altro come ha funzionato tecnicamente ho vinto io tutto quanto a meno che non mi entri nel culo in questo deciso istante ma no non succederà strada alla rovina addirittura qui tentativi due in realtà nuova auto una mclaren categoria hypercar ficca molto molto ficca ho sbloccato altro qua no ok ma non le ho ancora sbloccate io voi le cose hypercar giusto non le ho ancora sbloccate mi ricordo allora sono sbloccate cose nuove qui quindi un interceptor poi per quanto riguarda la polizia ne abbiamo tre va bene va bene